Christoph in Eropaer Mi è arrivato lungo No, 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 esco Prova a spingere ancora dentro Infatti ha preso il palo Con la punta anche dei sci Speriamo che Christoph oggi arriva sul podio Perché è amato anche in Austria E se lo merita E così E io ero lì in partenza e mi sono detto Spero solo di arrivare giù sano La stessa cosa con i nipoti So che Ogni gioco che faccio Vorrei anche vincere contro di loro Voi dico no Christoph Dai, lascia vincere anche loro almeno